ben ritrovati sui the walls si siamo sui the walls sistema un po il microfono bene dovreste sentirmi bene penso adesso abbiamo link e non è zelda smettetela di chiamarlo zelda e link non zelda gente che non ha mai giocato glende o zelde chiamano il protagonista zelda abbiamo uno dal mondo di tron favoloso una semplice mucca luigi iron man neoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneonehmm Vabbè, basta. Uh, abbiamo questo che non vuole farmi vedere il suo volto. Favoloso. Questo qua penso che sia uno di Borderlands. Penso. Un semplice Steve. Molto noioso. Sta per iniziare la partita. Eccellente. Cibo, cibo, cibo. Allora, allora, allora. Niente, siamo... Ok. Eh, il cacao non mi serve perché serve anche il grano per fare il biscotto. Quindi non scrivetemi perché non hai preso il cacao. Ops. Ho rubato un pezzo di legno a un mio compagno. Che persona cattiva che sono. E l'ho fatto ancora. Comunque so già dove andare. In questo momento sta piovendo. C'è un casino di freddo in questo maggio, eh. Anche voi avete freddo, scommetto. Eh, sì, bisogna andare qui. Cioè, no, qui, sì. E... Penso che abbiate anche voi freddo. Io ne ho, sì. Però Rambo deve sopravvivere anche nelle intemperie. Ok. Allora, andiamo qui. Quattordici minuti. Dai. Devo prendere un po' di roccia così dopo riesco a farmi la roba. So che ora non ci vedrete niente, ma abbiate pazienza. Fatemi fare queste due cose in croce e dopo vi mostro anche voi. Ma penso che dovreste anche vederci un po' voi. Allora, sì, vabbè, c'è a farlo tutte le parti. Alziamo ancora un pochino, dai. Va bene, così. Penso così ci vediate. Allora, mi avete detto che il numero è 20. Non so, ogni volta mi dite un numero diverso. alcune volte è 28, altre 26, altre 30. No, comunque penso che sia 20. Allora, 8 di corazza superiore, 5 di elmo, 4 di piedi. Quindi 4 più 8 fa 12. 4 più 8 fa 12. Non sto neanche... Allora, aspettate che penso due secondi. 8 più 4 fa 12. Ok, qua ci siamo. Più 5 fa 6, 7, 17. Poi 8 più 4. Ah, sì, poi le gambe. Eh, 17, 7. Penso sia 24 senza la spada. Senza nient'altro. Boh. Vabbè, voi non vi immaginate nemmeno quanto ci voglia. Cioè, è davvero difficile pensare e dire qualcosa quando si registra. Io non so perché, ma quando registro divento dislessico. Non so più cosa dire, sbaglio. Faccio anche sbagli assurdi, ma perché sto registrando? Per questo. E sono un po' teso. Quindi... Provate a registrare semplicemente qualsiasi cosa. Provate a registrare due secondi. Aprite tipo registratore audio di Windows e provate. Cominciate a dire Ciao, sono E. E cominciate a parlare. Vedete poi che non riuscirete più a dire niente. Prendo un po' di carbone e ringrazio quello che ha messo la torcia. Eccellente. Allora, aspettate che abbasso un po' la sedia che era troppo alta. Perfetto. Ora cerco un posto così mi vado a cucinare sta roba e se no me la rubano. Sì, lo so, ma bisogna sempre come si dice diffidare dagli altri. Penso che si dica così. Altro ferro. Anche se è un team non so mai quanto c'è da fidarsi. Cioè massimo mi fido in battaglia poi in battaglia si vede chi è che è amico chi è nemico. C'è gente che proprio comincia a sabotarti si vede altre no. Quindi penso che andrò un po' più giù. Allora qui va bene vado in questa stanza qui dentro mi shifto due secondi Rambo è ogni giorno sempre più bello eccellente ora non ci vedrete niente lo so però io faccio due secondi c'è uno che è lì davanti spero che non entri a disturbarmi allora ok ora ci vedrete sì è lì allora svuotiamo già un pochino eccellente ottimo non c'è nessuno sì lo so bisogna schiacciare contro le F per no e Q per buttare anche lo stack grazie per chi me l'aveva detto team or guys sì sì non ti preoccupare team work non ho mai visto Rambo fare team work quindi vabbè a parte in Rambo in John Rambo che ha dovuto per forza collaborare con quegli stronzi ma ha sempre combattuto da solo con quel favoloso arco che vorrei tanto far che vorrei tanto averne uno anche se ne prendessi uno però dopo non lo userei quindi sarebbe uno spreco se lo comprassi però se me ne facessi un artigianale sarebbe figo ya 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 allora la bussa mi avete detto che sarebbe cercare gli altri giocatori ah io non lo sapevo quindi quando inizia la partita dovrebbe funzionare quindi perfetto questo ah è vero se mi faccio il piccone di ferro posso prendere subito il diamante al centro della mappa anche se è la la zona più pericolosa perché tutti andranno a prendere il ferro e non va affatto bene è il diamante ah e poi in un vecchio video avevo detto che bisognava cucinarlo scusate mi sono sbagliato non bisogna cucinarlo e quindi si poter riuscirci anche dai se mi mi merda se il ferro non mi manca più cioè se non mi se non mi cioè se mi ma uh se mi rimane del ferro ci faccio un piccone comincio a farmi qualcosa dai ottimo c'è lì uno stack salterino cioè c'è qualcosa che sta saltando su e giù vai facciamoci la roba ok merda no no non mi basta eh no non mi basta devo uscire fuori ah ma c'è ancora tempo dai ok perfetto ah l'enchanter è vero devo trovare devo vedere se qualcuno ce l'ha adesso chiedo in giro in giro enchanting table enchanting table ok ottimo andiamo a vedere cioè andiamo a cercare del ferro sono già tutti su no quasi eh ma io adesso devo cercare del ferro eccolo no che cacchio è successo sta laggando un pochino ok ce n'è uno lì che cacchio no nessuno c'è nel shunting table che due coglioni ce n'è uno che guardate dov'è è molto sotto non mi vuole prendere quel blocco lì si sta leggermente laggando eh ma penso con questa pioggia lagghi non capisco il perché cioè se c'è un mal tempo la linea va lenta chissà il perché non lo capirò mai dovrò una volta se me lo ricordo chiederlo a un tecnico perché succede questo ah boh ok sto controllando un po' l'altra gente cosa sta facendo allora siamo nel team rosso come sempre il team giallo ha già una persona in meno perfetto è un'ottima cosa per noi eh e dai spero che non mi rubi il ferro no ok no 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 non è cattivo non è tra i cattivi è una persona buona Jorel io sono tuo padre no forse era il contrario Kalel io sono tuo padre o se no Luke io sono tuo padre forse forse ok allora eccellente e dai per un per un lingotto non posso farmi il coso il piccone cerchiamo del ferro potrei anche trovare una camera piena di gas ed esplodere insieme a lei e morire eh sì voi non immaginate quanto era difficile fare il minatore tanti anni fa si incontrava una camera a gas e boom visto perché se le torce torce le le luci che tenevano accese rimanevano accese facevano boom e cioè se incontravi se stavi per incontrare una camera a gas c'è una stanza piena di gas dovevi spegnere subito quelle luci che adesso mi vengono in mente sono quelle a olio adesso non mi ricordo come si chiamano e e boom ora è tutto automatizzato con ascensori che vanno giù per chilometri non riesco a trovare a trovare un blocco di ferro una sorgente di ferro non trovo no qua c'ero già si perché avevo in mente di prendere il diamante anche se molto rischioso non voglio adesso fare una brutta fine solo perché ho deciso di prendere il diamante ma comunque se sto insieme agli altri non dovrei tecnicamente morire cioè questo qua è ancora così è ancora senza ferro spero davvero di non morire siamo sempre in quella mappa semplice normale quindi c'è una torre centrale se vado su posso stare poi su mi porto una crafting table e rimango su eh cazzo eh si sta facendo l'arco quasi quasi potrei farlo anch'io guarda non ci avevo pensato ok tengo perché si trovano anche le frecce allora penso che sia così non mi ricordo mai come si fa si va in tutti e due i versi si lo so ok togliamo via questo please support the server by visiting store ipixel ah ok adesso vado nel sito e compro tutto così posso supportare il server allora non riesco a trovare del ferro del fottuto ferro non si trova del carbone però niente ferro prendiamoci la crafting table per sicurezza per sicurezza niente mi sa fiaco chiederlo agli altri sicuro non ce l'avranno quindi che chiedo a fare ma voi direte che ti costa chiedere però non ho voglia boh scaviamo in qua nulla ora sicuramente voi avete visto il ferro da qualche parte ma che io non vedo vabbè andiamo su allora per fare le frecce servono le piume e il flint di galline non ne vedo di polli un pollo non ne vedo quindi boh questo è vero il cibo mi sono dimenticato eccellente mi sono dimenticato il cibo un itza sword I need a one iron ingot take this take this ok come vedete non ce l'ho porca miseria porca miseria niente il mio sogno di andare al centro della mappa al centro della terra e scavare un po' di diamante non si è avverato ora vediamo un po' se c'è qualcuno vicino a noi no tanto ce l'ha ok allora dovrei stare insieme ai miei compagni ma no provo a andare un po' da solo vabbè adesso mi collego a loro mi metto sotto il mio compagno e prendo ma che cacchio c'è qualcuno lì ecco aiuto il mio compagno c'è la spada insciantata la voglio no che cacchio sto facendo scusate mi sono distratto guardate quel bellissimo diamante non posso prenderlo c'è del maiale l'ha allora uh c'è il team intero lì tutto mio ecco no poi se qualcuno servirà gli darò dei miei compagni naturalmente perfetto basta eh che cacchio faccio c'è che facciamo uh c'è un nostro compagno là andiamo ad aiutarlo andiamo vediamo se la bussola funziona no ok dai 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 sto correndo là che bello l'hanno lasciato da solo l'hanno lasciato da solo è rischioso quello che sto facendo si bene scappa via ahia ha preso tutto lui al chiglio niente freccia allora calmiamoci due secondi ok bene hanno le shunting table ma non non so dove uh mi sta mirando mi sta mirando uh prendo la freccia prendo ah no la sta usando anche deadly like uh 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 arriva qualcuno hanno anche la tnt mi collego a deadly like colleghiamoci collegamento in corso colleghiamoci al mondo di matrix o siamo già al mondo di matrix siamo già al mondo di matrix quindi non siamo nella vita reale si yeah no la corrente ma che cazzo oh ma la corrente è fortissima mi spengeva in giù mi spengeva e nessuno ha preso il diamante penso yeah e con un colpo ha ucciso kill fantastico sta facendo solo lui le uccisioni eh gli altri team non li vedo non capisco perché quindi il nostro team rosso è contro questo team merda ok ora vedrete cosa faccio se riesco uh 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 mi collego a quello là mi collego poi lo vado ad attaccare nel mio compagno lo vado ad uccidere se riesco se no devo scappare niente frecce non ha più del cibo sembra che non abbia più cibo cioè ha la fame lo sto uccidendo man mano piano piano che posto è questo via 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 usciamo usciamo siamo in una base nemica penso forse è la nostra base non mi ricordo food l'ho appena mangiato tutto eh non ne ho il piccone yeah andiamo 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 dove che andiamo sto cercando un punto ecco di là ma quanti ce ne sono oh sta per finire la partita che palle dobbiamo uccidere però ancora quelli uh no anche lui sta andando a prenderlo uh c'è già un altro nemico che ha già del diamante sicuramente allora via 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 dai 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 sì 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 no merda non sto riuscendo a prendere niente dai voglio provare a bloccarmi così riesco a scavare perfetto no dai andiamo lì e lo facciamo cadere stavo pensando a cosa fare sì lo so sto vedendo che sto per morire usciamo eccolo lì dai dai eccellente il mio sogno si sta per avverare e si è avverato ecco dei nemici cioè sapete cosa ho la spada di diamante usiamola bene friends hey bro usiamo bene la spada di diamante yes bro guarda il bro che sta facendo quasi quasi andrei alla torre centrale e mi butterei sopra di loro hanno le frecce secondo me questi sì lo sapevo yeah beccato mi nascondo qui ok ce ne sono tre in giro due sono lì e uno è qui da qualche parte gli faccio cadere sì avete visto benissimo cosa ho fatto così io posso salire in santa pace ok niente ok ok devo pensare bene a come far evolvere la situazione e non trasformarla nella mia morte precoce i miei compagni stanno arrivando eccellente mi serve il loro totale il loro totale supporto oh mio dio mi ha buttato la slowness ottimo 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 muori no 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 ne ho ucciso uno mi hanno buttato mi hanno buttato anche la slowness oh mio dio oh mio dio oh mio dio no via 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 oh merda oh merda non ci credo oh mio dio ho fatto la faccina sorridente oh mio dio ok ok sto per morire sto guardando se c'è del cibo ma non c'è niente oh merda sto per morire passo in mezzo alle cose per vedere se c'è una freccia oh del cibo no la regeneration no è la fire assistance cazzo resistance me la butto da solo stesso nulla se non hanno del cibo non so come cacchio fare niente vediamo nella ender chest non c'è niente la ender chest è l'unica cosa che ci collega noi tutti i team bene è rimasto vivo cimi g cimi g wow anche se sapete cosa faccio cerco del cibo da solo wow prima io non pensavo che fosse fosse buttato cioè io ho visto che erano su i miei compagni quindi pensavo che l'avessero ucciso erano su invece no me lo sono ritrovato davanti wow non l'avevo nemmeno visto per fortuna avevo la spada di diamante e mi ha salvato la vita perché toglie molto di più poi l'avevo già attaccato un po' di volte quindi l'avevo indubolito cacchio ma lui poi mi ha lasciato in fin di vita sapete cosa voglio fare voglio due secondi guardarmi bene l'inventario perché dopo mi dite che c'avevo il cibo fin dall'inizio non l'ho visto adesso svuotiamo un po' no che cacchio ho fatto ah ho buttato la spada di diamante comunque no non penso se riesco a trovare un pezzo un grano posso farmi un biscotto minimo quello si posso perché mi ricordo di aver visto la crafting ed è biscotto cioè si fa con i semi di cacao e il grano no la mia salvezza le mucche sapete cosa faccio le brucio ah non posso vabbè vabbè non voglio le schiame di bruciarmi anch'io no merda via 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 eccellente mi cucino la carne da solo come beer grease farebbe perfetto anche il stretto necessario per farmi il cibo eccellente ma tanto adesso lo trovo non l'uccido non è definita ok lo massimo lo trovo e lo uccido io sarebbe una figata assurda dargli il colpo di grazia o anche ucciderlo io ok ora ci vorrà un pochino di tempo prima che si ristabilizzi la mia il mio battito cardiaco e cioè la vita nel frattempo non devo correre non mi devono venire infarti o altro se mi viene un infarto un altro infarto niente non ce la farò non ce la farò e morirò ottimo però prima il cibo cacchierola l'ho sprecato no avevo fame però potevo tenerla ancora un po' no se no non sarei sopravvissuto penso ok ho anche una freccia quindi no l'accendino non voglio usarlo voglio usarla a spada di diamante il polo lo lascio lì per adesso ora cerchiamo questo nemico cimi g 2 3 5 cimi g 2 3 5 cimi g 2 3 5 uh hanno messo giorno fantastico cioè è automatico e non è che l'hanno messo no comunque mi ha tentato guardare la bussola ok sto premendo sinistro destro ma non mi non mi ci viene scritto niente in chat quindi è da quella parte spero ok deve essere qui allora in questo settore nel settore alfa beta no scusate alfa c 2 4 7 2 7 6 9 8 ecco in questo settore si siete dei geni voi utenti mi avete grazie a voi scoperto che la bussola serve individuare gli nemici eccolo eh non serve niente ormai scappare eccolo ti sei fregato da solo con le tue cose aspetta però non voglio subire delle trappole o altro si sta facendo si sta facendo la striscia di cobble ecco muori e finalmente il team green è stato eliminato yeah ho vinto è stato una bella partita si dai è stato bello quel punto in cui mi è rimasto un mezzo cuore e quindi sono c'è avevo il cuore a mille non ci credo c'è Goku Super Saiyan versione post Namek favolosa sta skin porca miseria perché c'è il vestito strappato dopo il combattimento contro Freezer tu sei un pazzo yeah e poi gli fa la Kamehameha e lo uccide favoloso abbiamo qualcuno del del coso dell'organizzazione alba Naruto me lo sto riscaricando tutto e devo riguardarmelo bene quindi non so chi è quello abbiamo Sasuke skin fatta bene favoloso con gli Sharingan e abbiamo mucoso come si chiama è quello che fa quello che fa le animazioni con il cinema 4D è la sua skin cioè quella dello zombie che ha un nome che adesso non mi viene in mente vabbè comunque spero che vi sia piaciuta la partita e vi saluto con la maschera di V per Vendetta ciao ciao